No, 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 non è tutto. Marco Borriello! Lazio 0, Roma 1. La Roma che va in vantaggio dopo sette minuti di questa ripresa. Il mancino vincente di Marco Borriello aveva intuito la direzione del tiro Muslera col pallone che lo ha beffato, passandolo sotto il corpo del portiere della Lazio. Esulta la Roma che dunque va sull'1-0. Festeggiamenti in campo e Mischia in tribuna. Se ci hanno guardato male. E Mischia! È tutto pronto ora per questo calcio di rigore. Fischia Morganti. Fischia ora Morganti. Vai Mirko. Va Bucci inizia! Sì! Vai Mirko! Vai Mirko! Vai Mirko! Vai Mirko! Vinciamo noi! Vinciamo noi! Vinciamo noi! La Roma vince il derby! La Roma vince il derby! È sempre lui! È Mirko Vucinic! È il castigo Motti! Come da pire! Mirko Vucinic! 13 metri! Roma 2! Lazio 0! Roma 2! Lazio 0! La Roma vince il derby! Andatevene tutti a casa! Andatevene tutti a casa! E la scelta! Per festeggiare la vittoria del derby! Lazio 0 Roma 2! Ha segnato Mirko Vucinic! È spaccato tutto! Tutta Marotta! Tutta Marotta! Spaccato tutto! E vabbè! Ladri 2 Roma 0! Lazio 2 Roma 0! Ladri 2 Lazio 0! Eccola! Eccola! Adesso valla a morire! Vallo!